E arriva da un convegno in corso di ConfCommercio sulla legalità, l'ultimo allarme per le nostre imprese. Una su dieci è a rischio usura, Paolo Scarlata. Sì, senza legalità le nostre imprese italiane rischiano la chiusura con 270.000 posti di lavoro a rischio. Un costo sociale ma anche economico per le imprese, quantificato da ConfCommercio in 24 miliardi di euro, ossia il 9% del fatturato totale. Lo dicevi, l'usura è il reato secondo le imprese più insidioso. Ma forse dell'ordine e associazioni di categoria vengono viste dalle imprese come i migliori alleati. Da qui lo slogan della giornata, la legalità ci piace.